I dati isprenerenti rifiuti e nello specifico la raccolta differenziata in Sicilia registrano un aumento del quasi 8% per quel che concerne tutto il 2016. Infatti da dicembre 2015 a dicembre 2016 la raccolta differenziata è cresciuta dal 12,81% al 21,05%. Si è pronunciato sulla questione il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta, il quale ha asserito che questo risultato è frutto di un lavoro su tutto il territorio con le diverse ordinanze. Stabilendo le quantità da conferire in discarica è vero che si sono create delle difficoltà, ma queste hanno spinto ad aumentare la differenziata a concluso Crocetta. Negli ultimi sei mesi di fatti l'aumento è stato circa del 6%. Per quel che riguarda il territorio ebleo, Ragusa sembra essere la più virtuosa assieme ai comuni montani, con dati che si aggirano intorno a poco più del 20%. Va meno bene per gli altri comuni ragusani, quale Vittoria, Scicchili e Modica, in quanto procedono lentamente. Mentre a Vittoria si sta in questi giorni procedendo ad una campagna di sensibilizzazione sulla differenziata, a Modica si è ancora all'anno zero. Nonostante, dallo scorso dicembre, la ditta EGM si occupa di una raccolta di fiuti, essendo subentrata la ditta Puccia. Per la città modicana si è già parlato di raccolta differenziata e di cassonetti appositi, ma ancora l'Iter non ha preso il via in materia concreta. Si auspica di fatti che questi provvedimenti vengano applicati a breve. L'incremento quindi non si è registrato in egual modo nei comuni siciliani. Nelle città con un numero massimo di 10.000 abitanti, il dato della differenziata si attesta al 31%. Per i comuni con un massimo di 30.000 abitanti si registra invece un 20% circa, mentre un basso 14,8% sia nei comuni con più di 30.000 abitanti, dunque nella maggior parte degli enti locali. Difatti un dato compreso tra il 12% e il 15% è quello di Palermo, Catania e Messina. Scende fino al 7% a Grigento e al 5% di differenziata a Siracusa. Grazie.